Buongiorno a tutti cari youtubers e benvenuti all'ennesimo video del mio canale ne sto facendo tanti sto mese devo dire comunque oggi devo rifare purtroppo un video che ho dovuto cancellare, ho dovuto cancellare, non ho potuto mettere per il fatto che ho perso completamente una parte del video che si era diviso in due e quindi adesso devo fare, devo rifarlo comunque questo qui doveva essere un video che doveva essere messo su prima del contest, la risposta al contest che però è arrivata all'improvviso quindi ho deciso di fare prima quello anche per toglierlo di mezzo anche se secondo me l'ho fatto un po' maluccio della verità cioè non è che ho fatto anche però in due minuti, non è che si possono fare i miracoli in due minuti, è la prima volta che facciamo un video in due minuti su una recensione, cosa potevo dire più che altro e vabbè dai, vediamo come, vedremo come andassi riuscirò a portarmi a casa qualcosa oppure no, vediamo di sì, se no pace all'anima mia oggi rifaccio la recensione di Prison School che avevo già presentato e che non ho portato più avanti per ripeto il fatto che ho perso una parte del video che l'avevo diviso in due perché se era impallato, probabilmente facevo il video comunque, ritorniamo quindi riflettiamo tutta la manfrina Prison School è stato nominato da me il titolo migliore che ho letto l'anno scorso l'anno scorso avevo l'anno 1 al 4 a gennaio ho recuperato tutti i numeri eccezioni dell'ultimo, il numero 10 che mi manca ancora da prendere e ancora cominciamo con il suo cellulare, vabbè pezzo di copertina 490, edito Star Comics ed è un comedy, si può dire comedy comedy, si può dire ecci tanto come volete il fatto che a me piace tantissimo la tema è molto semplice siamo in una scuola dove per anni soltanto le ragazze potevano entrare in una scuola femminile, diciamo che dopo tanti anni apre i battenti per la prima volta pure ai maschi e ne entrano 5 5 ragazzi che decidono, essendo gli unici ragazzi di andare a spiare le ragazze nei bagni decidono di fare questa roba di notte e alla fine solo uno riuscirà addirittura ad entrare nel bagno camuffandosi da da donna io veramente non capisco come abbia fatto quella ragazza lì poi a non scoprirlo cioè era completamente nudo questo è un punto di domanda e alla fine verranno scoperti dall'associazione studentesca segreta e verranno condannati a stare nella prigione che è questa roba qui è la prigione che è dentro la scuola quindi già la prigione è qualcosa di figo secondo me dove in questa prigione cosa faranno? si seguiranno le lezioni via televisore ma dovranno anche lavorare quindi fare i lavori forzati e verranno continuamente diciamo torturati dalle tre ragazze che sono lì a custodirli le ragazze di quali io le chiamo una è psicopatica l'altra è una tettona della madonna perché è una tettona in teoria è così che però dopo un po' si affeziona anche a loro dopo averli anche torturati per tanto tempo e l'altra che è la presidentessa del campo dell'associazione studentesca segreta diciamo che questa qua è molto contro gli uomini solo donne e bisogna anche dire che la scuola vige una regola da quando ci sono loro ovvero uomini e donne non si possono parlare a meno che non siano interpellati quindi non possono proprio rivolgersi alla parola e questo per i ragazzi diventa anche difficile adattarsi in un mondo di tutte donne dove non si possono parlare io sono cresciuto in una classe di tutte donne anche io ma non è che non ci parlavo minimamente cioè è impensabile come cosa e non stavo lì anche neanche a fare a sbirciare comunque a sbirciare in bagno perché non perché comunque non si fa una barra del genere comunque sì la storia praticamente è questa e da qui si svilupperà tutta la storia piena di torture sadomaso che poi diciamo non sono torture quelle che subiscono molto sadomaso anche molto sexy diciamo ma molto violente anche la novità di questo titolo è che secondo me oltre vabbè a tutto il fatto tette culo mutandina non mutandina reggisino tutta questa storia qui del sexy del lecce che accantoniamo da una parte e soprattutto la grande sorpresa di avere a ogni pagina un qualcosa che ti potrebbe dire qua cambia la storia qua cambia di nuovo cioè succedono tante cose che possono far succedere dei cambiamenti a livello della storia ti può anche divertire perché è anche piacevole e bisogna anche dire che questo titolo oltre a tutto ciò che ho appena detto è un titolo che ti divertente e comico anche in certi punti cos'altro dire di questo manga è ottimo anche sui personaggi i personaggi sono ben caratterizzati le tre ragazze chi sta fuori dalla prigione il direttore i cinque condannati insomma io li chiamo condannati ma non sono proprio condannati i cinque cinque ragazzi diciamo e sono ben caratterizzati ognuno la sua psicologia la sua caratterizzazione il suo i suoi hobby le sue passioni il suo modo di essere e vi dicendo e questo metterà anche in difficoltà molte volte o l'associazione sostenesca o loro stessi adesso il punto a cui sono arrivato è abbastanza interessante ma comunque non sto a spoilerarvi faccio vedere il nono volume ho portato qui in mano il nono volume ma ho tutti gli altri di lì faccio vedere anche qualche disegnino proprio velocemente non si è visto niente proprio in mente e niente titolo di questo manga io gli diedi otto e mezzo l'anno scorso e adesso che ho leggendo solo i primi quattro preferire anche dagli un nove perché il nove secondo me se lo merita nove come il numero di questo qua e quindi questo era prison school un titolo veramente bello questo tra l'altro è la sbaglio diciottesima recensione di un manga dopo di che farò un'altra recensione che non so se sarà magari quella di H.H.Megakiri spiegata un po' meglio e non di fretta oppure un'altra recensione stavolta di un anime alla ventesima recensione invece farò un video speciale un video sorpresa per indicare per parlare proprio di questi manga di cui ho già fatto recensioni o meglio ho già fatti quasi tutti quelli che ho quindi finché non ricupero altri titoli nuovi o qualcosa del genere non credo che farò altre recensioni sul manga quindi questo è Prison School ragazzi titolo eccezionale se non ce l'avete è un must have secondo me e prima di andare vi faccio vedere anche una piccola sorpresina che ho qui e che sto recuperando poco alla volta ovvero Battle Royale si sto ricoprando un capolavoro manga del 2009 che a me è sempre interessato e finalmente ho trovato i primi volumi se non sbaglio il 2 il 3 il 4 e il 5 a 10 euro li ho presi tramite internet e il primo l'ho già letto da internet anche qui quindi non l'ho non l'ho comprato apposta dio mio quindi io vi saluto e a questo punto vi rimando al prossimo video l'ho l'ho Grazie.